L'Isola dei Famosi, malore shock per Amauriz Perez, ecco come sta ora. Ennesimo colpo di scena All Cancelletto Isola dei Famosi 2018. Le ultimissime di gossip di queste ore rivelano che un altro dei concorrenti in gara quest'anno e che sta concorrendo alla finalissima del prossimo lunedì 17 aprile è stato vittima di un malore shock in Honduras. Mauriz Perez ha abbandonato il cast della trasmissione in seguito al malore che ha reso impossibile la sua permanenza in spiaggia. Malore all'Isola dei Famosi per Amauriz, ecco cos'è successo nel dettaglio Sembrerebbe che questa mattina Amauriz Perez abbia accusato questo malore che avrebbe allarmato non poco i suoi compagni d'avventura, i quali hanno subito che sto aiuto alla produzione dell'Isola dei Famosi, la quale a sua volta ha fatto entrare in scena il medico che segue i concorrenti 24 ore su 24 in Honduras. Il medico dopo aver visitato Amauriz Perez in spiaggia ha chiesto che il naufrago venisse portato in ospedale per fare degli accertamenti medici e quindi per cercare di capire bene quale fosse l'entità di questo malore che lo ha colpito. Sta di fatto che dopo essere stato portato via con urgenza dall'Isola dei Famosi, Amauriz non ha fatto più ritorno in spiaggia e in questo momento non sappiamo quale sarà la decisione finale del medico. Amauriz Perez lascia l'Isola dei Famosi? Si teme, infatti, che Amauriz Perez possa essere costretto ad abbandonare il cast dell'Isola proprio come è già successo la scorsa settimana con Franco Terlizzi. Come ben saprete, infatti, il pugile personal trainer di questa tredicesima edizione del reality show è stato costretto ad abbandonare il cast della trasmissione di Alessia Marcuzzi in seguito ad un malore che ha reso praticamente impossibile il suo proseguimento in gara. La stesa a cosa potrebbe accadere anche ad Amauriz Perez dopo la notizia del malore che lo ha colpito in quest'ore? Ricordiamo che proprio lo scorso lunedì Amauriz è stato proclamato primo concorrente finalista di questa tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Il concorrente ha conquistato il suo accesso alla finalissima che si svolgerà il prossimo 17 aprile su Canale 5, ma adesso tutto è in bilico e dipenderà dall'esito degli accertamenti medici ai quali è stato sottoposto in queste ore. Resterà in gara oppure lo vedremo tornare in Italia prima del previsto? Vi terremo aggiornati su tutte le novità che riguardano Amauriz Perez. Cancelletto l'Isola dei Famosi 2018. Cancelletto l'Isola dei Famosi 2018.